buongiorno e benvenuti in questo nuovo video oggi volevo farvi vedere questo bellissimo ford transit del 2021 questo è un veicolo che ha percorso solo 15.800 chilometri è praticamente nuovo un prezzo veramente molto interessante adesso facciamo una panoramica esterna del veicolo e poi anche una prova su strada faccio vedere anche la cabina interna il cassone ci vediamo un po' tutto partiamo come sempre dal frontale dove troviamo i sensori di parcheggio anteriori fendinebbia luci con proiettori classiche alogene carrozzeria in ordine vedete anche fascioni allora qualche segnettino c'è un mezzo di tre anni però vi posso garantire che è un mezzo veramente seminuovo i sensori di parcheggio anche sul posteriore le sicurezze in più che sono questi blocchi qua di chiusura che costano solo quelle costeranno 300 euro solo quelle su tutti e due le porte di accesso come motore troviamo un 2000 da 131 cavalli ibrido che è una batteria praticamente sul diesel che aiuta tutto quello che le utenze e la parte elettronica del veicolo adesso vi faccio vedere anche gli interni quindi partendo come sempre dal lato guida qui troviamo i vetri elettrici il blocco lo sblocco delle portiere la regolazione elettronica degli specchi retrovisori con l'abbattimento anche automatico che è molto comodo come vi dicevo prima fendinebbia qua il controllo delle luci comandi attivi al volante quindi troviamo anche il bluetooth con i comandi vocali abbiamo anche il cruise control con il limitatore di velocità il controllo sulla parte destra del computerino di bordo è un cambio manuale sei rapporti qui abbiamo i tastini per quanto riguarda anche il discorso dei sensori di parcheggio se volete disattivarli controllo trazione la modalità di guida che vi permette di usare di più poi anche la parte di supporto elettrico radio classica con climatizzatore comunque elettronico manuale una presa usb per collegare comunque dispositivi esterni qui abbiamo un porta levande tre posti ovviamente guardate anche solo i sedili come sono come sono belli non può essere altrimenti perché comunque stiamo parlando sempre di un veicolo in 15 mila chilometri tenuto comunque molto bene guardate anche sedile lato guida chiaramente non ha segni di usura particolare bracciolo centrale che anche quello molto comodo in guida se volevo farvi vedere anche il cassone interno così diamo anche una bella occhiata dentro eccolo qua pannellatura praticamente è nuova tutta pannellatura originale ovviamente la protezione del cassone però vedete anche le condizioni proprio reali del veicolo le luci interne del cassone sono a led e ce ne sono quattro quindi due sulla parte alta anteriore che fa veramente un'ottima luce al buio e due sulla parte posteriore un mezzo veramente bello prezzo interessante guardatelo perché veramente un bel mezzo chiaramente abbiamo anche l'apertura del portellone qua laterale scorrevole per l'accesso a carico esterno laterale se faccio anche una prova su strada non ci sarebbe bisogno ma comunque è giusto farla per chi guarda anche il video da lontano dovrebbe avere anche se la ruota di scorta vediamo se riesco a farlo a vedere ecco qua posizionata qua sotto comunque nuovo guardate anche sotto comunque il mezzo com'è guardate sono ancora i segni del nuovo allora andiamo provarlo su strada perché così capiamo anche un attimino come va partenza ovviamente regolare però devo fare tutto l'iter perché giustamente cliente che mi chiama da fuori vuole vederlo bisogna fare le cose giuste come sempre facendo anche il clima perché oggi è un'altra bella giornatina calda per fortuna vediamo se arriva sta estate allora come vi dicevo in apertura questo qua è un veicolo che ha 15.800 km quindi cosa vi devo dire tutto nuovo c'è proprio qualche segnettino leggero sul paraurti ma sono robe proprio lievi che comunque è un mezzo di tre anni capite voi che anche se è stato usato poco magari segnettino lo trovate sempre non è nuovo però dentro vi posso dire che c'è poco da dire nel senso che è nuovo dentro è nuovo euro 6 di tempi sc eva psc quindi abbiamo un mezzo dove che potete andare dappertutto è un mild hybrid quindi comunque abbiamo sempre questa parte elettrica che una batteria comunque 48 volt posta sotto il sedile dei passeggeri che va a dare una bella mano a quello che è la parte elettronica del veicolo poi le basse velocità quando vi avvicinate verso lo stop per intenderci un semaforo che sia questa batteria qua fa anche da supporto allo spegnimento del motore e quindi riducendo anche un attimino quello che è il costo e consumi però diciamocela tutta è fatto un po per la questione normativa dai allora mezzo che su strada c'è pochissimo da dire quindi vetri elettrici con regolazione elettronica degli specchietti retrovisori c'è l'abbattimento automatico perché abbiamo questa funzione che vediamo se me lo fa fare ok abbassandosi abbassando la levettina si chiudono alzando poi la levettina si aprono però adesso mi devo fermare perché mi sa che il movimento non me lo fa fare un attimo così lo facciamo da fermo ok i comandi al volante sono attivi ovviamente quindi abbiamo cruise control e limitatore di velocità comandi bluetooth attivi e sulla parte destra come vi spiegavo anche prima troviamo i comandi per il computerino di bordo centrale su contachilometri la portata del veicolo è di 10 quintali se non vado errato qua non mi ricordo neanche se c'è scritto perché adesso hanno fatto i libretti nuovi portata si segnata 10 quintali e mezzo 1041 kg abbiamo un 5 metri e 50 quindi un l2 h2 quindi ottime capacità di carico di spazio interno il volume il cubaggio interno a bello ampio poi a me la meccanica ford è sempre piaciuta quindi sono mezzi che a me piacciono molto guidabilità e bellissima bracciale centrale sei rapporti 2.000 da 131 cavalli interamente finanziabile anche con anticipo zero quindi però ecco su strada ho pochissimo da dire con l'unica cosa che abbiamo sostituito mi è venuta in mente sono le due gomme davanti perché probabilmente si era spostata la convergenza aveva consumato la parte interna non ce ne eravamo accorti neanche noi finché non l'abbiamo sollevato si era consumata la parte interna della di una delle due gomme e chiaramente abbiamo poi sostituito quindi abbiamo nuove quelle ma solo per una questione nostra però un po più usurata e allora l'abbiamo sostituiti perché vanno sostituiti sugli assali entrambi ruota di scorta come avete visto anche prima praticamente nuova perché non può essere altro e poi un prezzo veramente interessante perché datelo a vedere questo non so cosa durerà comunque sul nostro sito internet trovate tutte le informazioni complete di questo veicolo quindi numero di targa numero di telaio descrizione completa chiaramente non trovate la foto della revisione che mettiamo di solito perché la prima revisione non l'ha ancora fatta la fa nel 2025 e anche il discorso tagliandi abbiamo fatto solo un tagliando o forse non so neanche se l'ha fatto perché con 15.000 km loro mettono delle scadenze chilometriche e quindi bisogna vedere anche poi nel pacchetto come era stato costruita la cosa comunque mezzo eccellente abbiamo a disposizione poi anche tanti altri veicoli commerciali di varie tipologie quindi dalla dei ford custom normali passo normale passo un po più lungo abbiamo dei citroen dei pegeot sul nostro sito comunque vedete un po tutto quello che c'è disponibile è in pronta consegna ovviamente bene io direi che per questo video è tutto e vi invito come sempre a chiamarci per qualsiasi informazione e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti e buona giornata ciao ciao ciao